è mezzanotte quando ti accorgi che è l'ora del dolce dormire stai entrando nel letto sotto le coperte quando vedi una luce che cade e punta verso il soffitto immediatamente la tua vista ti richiama ai vecchi ricordi vecchi ricordi in cui tanti e tanti anni fa ti dilettavi a giocare con tuo fratello a creare ombre di vari animali ore e ore di divertimento assoluto e tutto grazie a una torcia e a della fantasia al pensiero di questo ti scappa una lacrima di commozione mentre le mani si muovono creando tanti piccoli animali ma poi ti accorgi di una cosa le mani non sono tue grazie a tutti grazie a tutti